Ha detto, fra mezz'ora, by Water Street. Ok. Ragazzi, la serata continua alla grande. Vi dico solo i nomi, Sharon e Kim. Sì, con gli nomi sono i Besinger. Una roba molto più fresca. Chi mi fa da sparring partner? Ma, guarda, stasera Luca e io abbiamo un impegno, sai, con due segretari che abbiamo incontrato in metropolitana. Allora vieni tu, Francesco, sì? No, io no, grazie. Perché? No, prima cosa perché sono stanco morto e poi lo sai. Io so Giulia e... Eh, va bene. Ui, ui, perché non si può... C'è Giulia, c'è Giulia e la quale mi ama, ci stiamo per sposare e... No, Antò, no, Antò, io sono fidanzatissimo. Eh, oddio, se non ti dispiace io sarei sfidanzatissimo. E secondo me è anche vogliosissimo. E bravi il calzare, c'è l'occhio clinico, eh? Dai, vieni tu, dai, andiamo, tu tonno, vai. Ciao. Mamma mia, grazie Massimo. Ok, thank you very much. See you tomorrow. Massimo, ciao. Oh, ciao. Maronna quanta roba. Massimo, la buta di meglio, eh?